Ben trovati ad una nuova edizione di Trucking News, scopriamo insieme le notizie di oggi. Renault Trucks celebra la propria Amiraglia T con una serie speciale, Sport Edition. È caratterizzata da kit aerodinamico composto da spoiler e deflettori dell'aria con finitura carbon look. Le caratteristiche del veicolo sono il colore rosso Sport, una doppia fascia bianca sul pannello frontale e una bandiera a scacchi sul parasole. La piattaforma WebFleet di TomTom Telematics permette a chi guida per motivi di lavoro di completare le attività quotidiane direttamente da un'app. Il controllo dei veicoli può essere effettuato attraverso il dispositivo comunicando in tempo reale i risultati al back office. Possono essere inviati alert in merito alla conferma di consegna tramite la cattura o la scansione della firma digitale. Un'idea semplice ma accattivante per creare rete, condivisione e scambi è Assi Turbo di FTS, società del gruppo di Ferdinando Ferrero, che propone un'assicurazione sui ricambi del turbo e su tutto quello che concorre alla sua sostituzione. Ed ora scopriamo insieme l'ospite di oggi a Trachinosa. Ospite di oggi studio Lorenzo Monti, responsabile commerciale Europa della Orlandi. Buongiorno, grazie mille. Allora, sappiamo che l'Orlandi è stata fondata più di un secolo fa. Ci spiega brevemente la storia di questa azienda? Sì, Orlandi, appunto, come ha detto lei, è stata fondata nel 1859, quindi una tradizione molto antica. Dal dopoguerra in poi si è specializzata nello studio, nella produzione di sistemi di agganciamento tra camion e rimorchio e negli ultimi 60 anni ha ingrandito il proprio range di produzione con tutti quei ganci, quelle ralle necessarie per l'agganciamento in tutta Europa come anche in paesi stranieri e lontani, tipo l'Australia, Nuova Zelanda, Sud America e Africa. E quali sono invece le novità che state presentando quest'anno? Quest'anno stiamo lanciando un nuovo gancio di traino per il trasporto bighe. Abbiamo rivisto il gancio che già produciamo da parecchi anni, l'abbiamo migliorato, prima di tutto accorciandolo, quindi rendendolo più flessibile per il montaggio su traverse di traino dove c'è la presenza del terzo asse. Accorciandolo l'abbiamo anche alleggerito, quindi abbiamo risparmiato 5-6 kg rispetto alle versioni standard ed in ultima analisi siamo stati in grado di omologarlo e testarlo ai valori più alti oggi presenti sul mercato, quindi diciamo che è il gancio più robusto che si può trovare sul mercato oggi. Perfetto, sempre da tenere a mente anche la sicurezza sulle strade che passa dall'utilizzo appunto di ricambi originali, giusto? Esatto, la sicurezza è proprio un qualcosa che Orlando a cui tiene moltissimo e lavoriamo molto su questo. Se immaginiamo che attaccato a un gancio di traino o a una ralla c'è sempre un semirimorchio di qualche decina di tonnellate, ci rendiamo conto che la sicurezza sulle strade è molto molto importante. La produzione dei particolari di questi ganci, di queste ralle particolari di sicurezza è una produzione molto complicata e attenta. Dobbiamo garantire la qualità del materiale di lavorazione, dobbiamo garantire le lavorazioni meccaniche, quindi le tolleranze lavorazione e quindi dobbiamo dare un prodotto che assolutamente deve essere di altissima qualità. Bene, io la devo interrompere purtroppo perché il tempo a nostra disposizione termina qui, ma ricordo a tutti i telespettatori che se volete seguire integralmente l'intervista con Lorenzo Monti potete farlo andando sul sito di trasportocommerciale.it In sovraimpressione trovate anche l'e-mail alla quale potete iscrivervi. Alla prossima edizione di Tracchi News, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.